Uno speciale finanziamento per le imprese del comparto edile con sede nel cratere sismico dei comuni di Teramo e L'Aquila sarà presto possibile grazie a CNA Teramo, L'Aquila e Fidimpresa Abruzzo. Sì, continua questo rapporto di collaborazione tra i due territori, due territori importanti, due territori che hanno avuto purtroppo la sfortuna di avere un terremoto e le due CNA insieme a Fidimpresa hanno deciso, visto la difficoltà di un settore importante che è quello dell'edilizia, di dare un sostegno concreto a questo settore per far ripartire l'economia. Parliamo di un settore che nei comuni del cratere sono quasi 3.800 imprese, sono 60 comuni coinvolti nel cratere in un territorio che è uno dei più importanti a livello regionale per quanto riguarda la ricostruzione. Fidimpresa ha messo a disposizione questa linea di finanziamento, parliamo di 200.000 euro di un chirografario, 84 mesi più 120.000 euro di anticipo su fatture e scoperto di conto corrente, con un plafond di 2 milioni di euro che con il moltiplicatore che abbiamo noi con le banche, tra 15 o 20%, parliamo di 30 o 40 milioni di euro di sostegno al settore dell'edilizia. Quando si parla di edilizia in Abruzzo viene logico pensare anche alla ricostruzione. Quali sono i numeri, Presidente? Dunque, i numeri della ricostruzione sono questi, a dieci anni dal sisma. 8 miliardi e mezzo circa sono le cifre che sono necessarie per la ricostruzione privata nel cratere dell'Aquila. A questa, considerate che il 54% della città dell'Aquila, del centro storico, a oggi è in corso di ricostruzione. L'84% è stato ricostruito nella periferia. Nella zona, è importante perché abbiamo dei territori che sono molto molto simili, i comuni che sono vicini al capoluogo sono ricostruiti solo per il 23%. Questi territori, l'Aquila e Teramo, generano economie rilevanti a livello nazionale, forse internazionale, perché stiamo parlando di 8-5 miliardi. Che cosa significa? Queste economie sono generate dalle imprese. Le imprese, per cominciare a lavorare e produrre, hanno bisogno di credito. Il credito oggi può essere, e quindi parliamo sulla fattività di questa iniziativa, sostenuta dalla CNA, che garantisce una possibilità di, come dire, avere i soldi che la banca erogherà, di garantiti fino all'80%. Questo permette anche alla piccola impresa, perché oggi il problema principale dei nostri due territori è che sta scomparendo l'impresa artigianale, cioè il piccolo imprenditore, uno, due, tre operai con il figlio o quant'altro, chiude l'impresa per andare a fare il caposquadra nella grande impresa. Quindi perdiamo una ricchezza sociale importante e noi vogliamo intervenire in questa direzione.